buonasera amica e buonasera amici bianconeri secondo video di giornata come promesso se fossi arrivato in tempo per ritagliarmi appunto un secondo contenuto lo voglio realizzare per due questioni importanti la prima ovviamente è un ringraziamento a pavel e poi veniamo a parlare un pochino di calcio un pochino di juventus in proiezione futura di ciò che potrebbe essere prima di farlo come sempre ringraziandovi per il seguito grazie al canale continuate a farlo quindi iscrivetevi se già non siete iscritti azionate la campanella mettete like al contenuto e scaricate l'applicazione one football di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolare lo scarico un'applicazione leggera un'applicazione gratuita che trovate disponibile sia sul play store che sull'apple store che vi dà la possibilità di essere aggiornati costantemente su tutti quelli che sono i movimenti e tutte le notizie che ruotano intorno al mondo del calcio potrete selezionare la vostra scuola del cuore ed essere aggiornati in tempo reale su tutto quello che esce a livello di informazione sulla vostra scuola del cuore e poi vi dà la possibilità non l'ultima cosa semmai piuttosto utile e valida di poter vedere gli highlights di tutte le partite di serie a serie b e serie c ma veniamo al contenuto odierno il ringraziamento doveroso a mio modo di vedere a pavel nedved un giocatore o meglio un dirigente un ex giocatore un dirigente troppo bistrattato in questa ultima fase della sua carriera dirigenziale alla juventus sappiamo ormai che da domani si inserirà il nuovo cda ci sarà una nuova dirigenza il presidente lo abbiamo ringraziato lo faccio per l'ultima volta riportando le sue parole che sono quelle di una persona innamorata dei colori bianconeri innamorata della juventus che ha speso tutte le sue energie per cercare di portare i migliori risultati possibili alla juventus è convinto di aver portato risultati straordinari si sarebbe potuto fare certamente di più certamente qualcosa di meglio ma tant'è è stato fatto tutto ovviamente con un amore viscerale nei confronti della juventus quindi ringraziamo il presidente che ripeto nonostante quest'ultimo triennio dove parte della tifoseria evidentemente ha dimenticato ha cancellato ciò che di buono era stato fatto e quindi spesso lo ha criticato anche con parole a mio modo di vedere oltre misura offensive lascia e quindi spazio al nuovo al nuovo corso ma bisogna ringraziare anche pavel ned ved perché nonostante tutto quello che io abbia letto e sentito in questo ultimo periodo nei confronti di pavel ned ved voglio ricordare che trattasi di un giocatore che ha vestito lo straniero che ha vestito più volte la maglia della juventus 327 presenze con condite da 65 gol una marea di trofei portati a casa non ultimo chiaramente il pallone d'oro in quel famoso 2003 che vide anche la finale di champions league tra juventus e milan persa purtroppo i rigori dai bianconeri finale che perse lo stesso pavel ned non potendola disputare a seguito della munizione combinatagli contro nella sfida di semifinale contro il real madrid e quindi parliamo comunque di un giocatore che si è speso davvero per la juventus che ha rinunciato al denaro sonante del presidente morati per trasferirsi all'inter scegliendo di prendere le scarpette al chiodo e di passare poi al percorso dirigenziale in affiancamento al presidente agnelli dal 2010 nel cda dal 2015 come vice presidente fino ovviamente all'epilogo di dicembre e all'ultimo giorno quest'oggi perché da domani si inserirà ufficialmente il nuovo cda nuova dirigenza e quindi anche per pavel ned ved il percorso è finito e con un comunicato alla juventus lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto e speso per i colori bianconeri grazie anche da parte mia e mi auspico anche da parte della community venendo invece alle questioni di campo allora attendendo di capire se i giocatori che stanno sulla via del recupero che stanno recuperando dai rispettivi infortuni saranno eventualmente disponibili o convocati a partire dalla sfida di giovedì contro il monza su questa certamente non ci saranno blaovic e pogba per i quali ho speso ieri o l'altro ieri non ricordo qualche possibilità di convocazione e ho parlato di possibilità di convocazione chiaramente non di titolarità nella sfida di domenica contro l'Atalanta c'è chi dice che assolutamente non sarà così io quel lumicino lo tengo attenzione monitoriamo giorno dopo giorno step by step il loro percorso di riallineamento al resto del gruppo per tornare quanto prima nella lista dei convocaboli perché lo ribadisco massimile allegri ha cercato di fare pressioni affinché si possano accorciare quanto più possibili i tempi dei suoi giocatori di cui lui ha assolutamente bisogno per continuare a risalire la china venendo alle questioni che riguardano la juventus siamo in pieno calcio mercato sapete che come vi ho detto la juventus a modo di vedere non avrebbe fatto mercato fatto salvo un'operazione magari last minute con un'operazione di scambio di prestiti o di un arrivo di un giocatore in prestito sulla corsia di destra quella abbastanza sguarnita dove se manca quadrado hai grandi difficoltà nel reperire elementi che possano giocare a tutta fascia detto questo premette premettendo che ritengo sia possibile che la juventus non faccia nulla va anche analizzato quello che hanno fatto le altre praticamente nulla solo qualche operazione di contorno cito berzinski del napoli cito il terzo portiere che ha acquistato il milan ma veramente siamo nel campo di operazioni di basso profilo operazioni secondarie perché di soldi non ce ne sono il calcio italiano in questo momento vive un momento molto difficile molto particolare la sta facendo ovviamente da padrona la premier league con il celsi che ha maramaldeggiato su questo mercato invernale acquistando in lungo e largo i più svariati giocatori spendendo cifre davvero iperboliche quindi che cosa sarà la juve il prossimo anno dobbiamo certamente attendere di capire come si svilupperà il resto della stagione e quindi capire che cosa farà massimo di allegri sappiamo questo è certo che la nuova dirigenza capitanata chiaramente dalla proprietà per volere di john el can ha dato un input chiaro e preciso costi sostenibili e voglia di tornare quanto prima alla vittoria quindi di perseguire i successi quindi non certamente quella di ridursi di abbandonare i sogni di gloria e di successo ma di perseguirli attraverso la sostenibilità dei costi questo potrebbe comportare l'inserimento in organico dirigenziale di un direttore sportivo sia fatto spesso il nome di giuntoli che mi sembra difficile possa abbandonare oggi che il napoli sta viaggiando a queste a queste latitudini il progetto però mai dire mai nel calcio soprattutto nel calcio mercato vediamo di sicuro la juventus dovrà fare il tutto cercando di combinare l'esperienza costi sostenibili quindi con giocatori che non siano quei giocatori alla milinkovic savage tanto per fare un nome perché mi avete chiesto in tanti se milinkovic savage sia un obiettivo della juventus della precedente dirigenza assolutamente sì giocatore che piace peraltro anche la spagnia allegri senza ombra di dubbio ma è un giocatore che ha dei costi esorbitanti sia a livello di cartellino perché comunque andrebbe a guadagnare oltre i 6 milioni di euro netti a stagione non ovviamente garantirebbe l'utilizzo del decreto crescita e comporterebbe un esborso importante da versare nelle casse dell'alazio di lotito che per farlo partire chiaramente non chiederebbe meno di 60 milioni detto questo che cosa può fare la juventus intanto tornerà dal monza in via presumibilmente definitiva perché mi risulta essere un elemento su cui la juventus farà affidamento in proiezione futura nicolò rovella che prenderà le chiavi della cabina di regia del centrocampio nero auspicandomi e auspicando a voi tutti ovviamente la possibilità di poter liberare da questi compiti Manuel Locatelli che si è dimostrato in difficoltà più e più volte anche perché obiettivamente è più una mezzala che un regista e quindi con questa operazione si libererà probabilmente lo slot di Paredes saranno lasciati andare Quadrado e Alexandro l'investimento importante eventualmente diluito perché non si pensa di fare un'operazione da 50 60 milioni su un unico giocatore la juventus dovrà pensarlo in difesa laddove servirà certamente con la partenza di Alexandro al quale non verrà rinnovato il contratto un altro centrale di un certo livello da affincare a Gleason Bremer e poi la juve deve rinforzarsi inevitabilmente sulle corsi laterali ci sarà cambiaso di rientro ma non so se ci può pensare a cambiaso come titolare della prossima juventus ovviamente di rientro dal presto al bologna e poi la juve che monitora alcune situazioni come quelle legate a Ivan Fresneda del Real Valladolid su cui però ci stanno muovendo gli occhi diversi club anche della Premier League e questo potrebbe diventare inevitabilmente un grande problema quindi la juve dovrà fare del lavoro di scouting del lavoro di anticipo attraverso l'intervento come è stato fatto ad esempio con vari giocatori su cui è stata brava affiondarsi arrivare primi mi riferisco ad il Diz preso e prelevato dal Bayern di Monaco a Iling Junior prelevato dal Chelsea ecco come ha fatto su questi giocatori dovrà fare così anche su vari altri profili come possono essere quello di Ivan Fresneda però per il quale qui non si può andare a prendere il giocatore in scadenza di contratto qui c'è da versare ovviamente la quota del cartellino richiesta dal club di appartenenza comunque una juve che va nella direzione di una sostenibilità di una ricerca di giocatori già di un certo livello di esperienza ma dei costi sostenibili da affiancare a quei giovani per i quali ripeto il nuovo corso non vuole prescindere. Allegri sarà il allenatore in grado di poter gestire tutto questo? So già la vostra risposta ma dobbiamo tenere presente che comunque il suo operato sarà valutato dal DG nonché ministro delegato Maurizio Schiannavino che si inserirà in via ufficiale a partire da domani e che ovviamente come Massimiliano Allegri terrà sotto controllo e monitorata la posizione anche dei rispettivi giocatori e quant'altro. Pertanto è una Juventus che si approccia ad un nuovo corso e intanto come ho raccontato nel video di quest'oggi quantomeno è una società una Juventus che ha deciso di perseguire anche la linea dura difensiva nei confronti di chi l'attacca reiteratamente cercando di metterla in buca ma questa volta la Juventus ha deciso davvero di far sentire la propria voce e di prendere le difese anche di una tifoseria che auspicava questo da tanto tempo. Ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine. Forza Juve. Ciao